Sono convinto che la nostra è una corsa sul filo, ma è una corsa che possiamo vincere. Costruire un Expo è veramente costruire qualcosa di complicato, forse è la manifestazione più complicata al mondo, perché è l'Olimpiadi, voi vedete in fondo il programma lo si sa, sono dei 15 giorni, le gare sono quelle, lunedì, a martedì, a venerdì, mentre l'Expo dura sei mesi. Adesso si entra di più nel tema dei contenuti, che vogliamo investigare fino in fondo, il rapporto tra l'uomo e la natura, la lotta alla fame, la corretta alimentazione, la sicurezza del cibo, la tavola dove si consuma il cibo, si consuma con i familiari, con gli amici, si accoglie l'ospite, si dialoga. Beh sì, mi è venuta l'idea di un visibile per il visibile, da una parte ora si innalza al di là dei limiti dell'uomo e dall'altra parte è stato uno dei primissimi tentativi dell'uomo all'alto per innalzarsi a più sopra della terra, quindi unisce i dirigenti del passato al futuro, parla di un Expo che vuole portare l'uomo sempre più in alto. Mi dava bene con le braccia? Mi dava bene Roberto? Sì, sì, bravissimo. Ma troppa gente, via. So che lei non ama parlare dell'inchiesta giudiziaria, però ieri l'Ans ha battuto che i PM hanno sentito per oltre 5 ore una persona a lei molto vicina in passato. Ha un commento a riguardo? No, non c'è un commento a riguardo. Sempre convinto di farsi sentire non prima di settembre dai PM? Come hanno detto i suoi legali? Prima di settembre. I miei legali hanno spiegato bene le motivazioni e le ragioni. Hanno parlato loro, non è in grado. Non c'è io, non c'è lì. Ci sono problemi per il decollo? No, 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 no. Sì, sì, sì. Sì, ok. Il vice sindaco vi ha chiamato bene questo. Io ho fatto bene. No, il vice sindaco. Qui anche il Presidente Monti si unisce a nome del governo, si unisce a noi nel festeggiare questa data simbolica dei meno mille giorni all'Expo. È chiaro, come vi dicevo prima, che dobbiamo procedere nella massima unità e nella massima cooperazione istituzionale. Poi voi veniserà anche a Pirelli a vedere la scritta? Sì. Ce la faremo. Sì. 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 Vi ha dato p interested. No. Bene. Grazie a tutti. Grazie mille. Salve. 杖 story. Bye bye. Bye bye. Bye.